L'Italia si sveglia anche oggi con un primato che non avrebbe voluto avere il numero delle vittime del coronavirus ha superato quelle della Cina, 3.405 dall'inizio dell'emergenza, 427 solo nella giornata di ieri. Nel consueto bollettino che aggiorna i numeri della battaglia al Covid-19, ieri il capo della protezione civile ha poi riferito anche il numero dei guariti e dei malati. Il numero dei totali dei guariti è a 4.440 persone. Il numero delle persone attualmente positive in Italia è di 33.190. Continua ad essere la Lombardia la regione più colpita, il governatore Fontana chiede ulteriori strette sugli spostamenti. A Bergamo poi è arrivata la telefonata del Presidente della Repubblica al Sindaco Giorgio Gori. Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e infuso coraggio ai cittadini che più di altri adesso stanno facendo i conti con la morte. Nel Lazio il governatore Nicola Zingaretti è corso ai ripari e ha firmato un'ordinanza restrittiva per il solo comune di fondi. Divieto di ingresso e uscita dal paese, negozi chiusi e controlli stringenti. Nel piccolo paese della provincia di Latina l'1% della popolazione è risultata positiva. Il focolaio sarebbe stato scatenato da una festa di carnevale in un centro anziani. Isolati anche due istituti di suore, uno a Roma e l'altro a Grotta Ferrata, per un totale di 59 persone positive. Si apre infine anche il fronte sud. In Puglia è schizzato il numero dei contagiati, tra loro molti genitori di studenti rientrati di corsa nelle scorse settimane da Veneto e Lombardia.